Il caro Energie Bollette si ripercuote inevitabilmente anche sulla sanità abruzzese, c'è la stangata Covid. Secondo proiezioni si pensa che luce, gas e soprattutto pandemia costeranno al 31 dicembre alle asera abruzzesi 213 milioni di euro, con un aumento rispetto all'anno scorso di 52 milioni più 130%. L'assessore alla sanità Nicoletta Verri ribadisce la situazione essere seria e fa una richiesta al Governo, mentre all'opposizione al PD in particolare, il quale afferma che i dati diffusi dalla Giunta sarebbero un alibi alla vigilia del tavolo di monitoraggio, che non c'è stata una cattiva gestione, ma è un problema che affligge tutte le regioni. Allora, noi abbiamo una stima a chiudere di 213-220 milioni, però parliamo di stime, in quanto abbiamo organizzato anche un piano di rientro in tutte e quattro le alz. Quello che voglio sottolineare è che abbiamo un costo maggiore per quanto riguarda l'energia, confrontandoci all'anno precedente, più di 52 milioni, non solo, ma anche i costi Covid che abbiamo sostenuto durante quest'anno sono costi che incidono sui 113-120 milioni. Parliamo sempre di stima. Che cosa ho fatto? Insieme alle altre regioni, perché non è solo la regione Abruzzo, ma anche le altre regioni, abbiamo chiesto un incontro con il Ministero della Salute e soprattutto con il Ministro e il Ministro del MEF per poter dare ulteriori fondi alle nostre regioni perché dobbiamo chiudere il bilancio in equilibrio. Quindi sono costi che si aggiungono a quella che è la gestione ordinaria delle nostre alz. L'assessore tiene a precisare che nell'anno della pandemia 600 mila sono stati pazienti curati e per curare questi pazienti dice ci sono costi. L'anno scorso abbiamo chiuso in equilibrio, invece molte, tantissime regioni a livello nazionale hanno chiuso con un disavanzo e ancora oggi stanno chiedendo fondi per ripianare il disavanzo dell'anno precedente, invece noi l'anno scorso abbiamo chiuso in equilibrio. È vero che le alz hanno bisogno di maggiore fondi, qualcuno dice che sono fondi strutturali, ma è anche vero che noi abbiamo assunto un numero elevato di medici, di sanitari e a questo bisogna aggiungere anche i costi in aumento delle materie prime. Come ad esempio i macchinari importanti a livello medico che consumano energia ma di certo indispensabili e non possono essere fermati. E proprio per questo, per continuare a garantire servizi importanti, prosegue l'assessore, chiediamo ulteriori fondi. Senz'altro interrompere l'attività di un macchinario che produce non avverrà mai, poi se abbiamo macchinari ormai obsoleti che vanno riorganizzati in una gestione con nuova programmazione, nuove procedure, è un problema che le aziende alz nella loro gestione andranno a sistemare.